Ora è certo, il 27 dicembre il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sarà nel Vallo di Diano, una visita che era stata sollecitata dai sindaci del territorio attraverso una lettera sottoscritta dal presidente della comunità montana, Raffaele Accetta, dopo l'avvio dell'inchiesta da parte della procura su un presunto traffico di rifiuti tossici, inchiesta tutt'oggi avvolta nel mistero. Di qui la decisione delle istituzioni del territorio, con a capo il Parco Nazionale del Cilento, di chiedere un incontro al ministro per provare a saperne di più, per poi stabilire le eventuali azioni da adottare a tutela delle popolazioni e dell'economia locale. Costa ha accettato l'invito, sarà a Padula il prossimo 27 dicembre. Prima di discutere la questione rifiuti tossici con i sindaci, il ministro terrà presso la nuova sede della comunità montana del Vallo di Diano un incontro sul tema fiscalità di vantaggio nei parchi nazionali. Quindi illustrerà la nuova legge clima, con la quale sono state istituite le ZEA, ovvero le zone economiche e ambientali, che corrispondono ai parchi nazionali e prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per i comuni che ricadono nelle aree all'interno dei parchi e per chi volesse aprire al loro interno attività imprenditoriali ecosostenibili. Saremo il primo parco, spiega con soddisfazione il presidente Tommaso Pellegrino, in cui il ministro verrà ad illustrare la nuova legge, importante, aggiunge, per le nostre aziende. Quindi noi avremo la possibilità che le nostre aziende, o meglio le aziende che investono nel territorio dell'area protetta, possano avere una fiscalità di vantaggio, un importante risultato che presenteremo il 26. L'incontro pubblico con il ministro all'ambiente inizierà alle 10.30.